Questo era un ospedale inaugurato in Pompamagna, travolto da una vicenda dolorosa e poi in qualche modo abbandonato a se stesso. Quindi abbiamo ripreso il bandolo della Matassa grazie ai consiglieri regionali del territorio, devo dire in particolare Michele Mazzarano, ma devo dire tutti perché era una ferita l'abbandono di questo ospedale al suo destino che pesava su tutti. Ovviamente anche il rapporto di stima e reciproca amicizia col sindaco è stato molto utile per mettere a punto queste strategie. E' chiaro che oggi stiamo festeggiando l'inizio del rafforzamento di questo ospedale che grazie al piano di riordino, perché il piano di riordino in qualche città abbiamo dovuto dare qualche notizia non felicissima, ma questo è un ospedale che è stato promosso dall'ospedale di primo livello e sul quale quindi noi punteremo moltissimo, ma ci sarà anche tanto da lavorare e tanto da investire. Quindi oggi sono venuto, come al solito, a mantenere le promesse e a metterci la faccia.